sembra, ripeto, sembra che Cristoforo Colombo non fosse italiano, non fosse genovese ma pensate che secondo un team di ricerca guidati dal signor José Antonio Llorente dell'Università Spagnola di Granada sembra che Cristoforo Colombo fosse stato, sia stato o ebreo, cioè scusatemi, spagnolo ed ebreo quindi in pratica secondo questo team guidato da José Antonio Llorente Cristoforo Colombo, colui che scoprì l'America, sarebbe stato spagnolo ed ebreo, va bene? l'indagine sarebbe stata ricostruita attraverso un documentario che sta letteralmente creando molto, molto, molto scompiglio sta facendo letteralmente discutere molte persone del mondo l'indagine va a prendere, diciamo così, in esame il fatto che il diario di Cristoforo Colombo sarebbe sì parziale ma sarebbe sufficiente è stato analizzato e sembra che sia stato confermato che in pratica proprio costui era spagnolo e non era italiano, va bene? secondo infatti il team sembra che Colombo nacque da una famiglia di Valencia una famiglia di tessitori una grande tradizione della comunità ebraica poi però molti hanno contestato la chiamiamola conclusione tratta in questo modo qui comunque Llorente fa sapere che ancora non è stato pubblicato al momento uno studio accreditato a sostegno della tesi va bene? vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utenti di youtube il video termina qua una buona serata a voi prendete con le pinse il video e oggi queste informazioni mi raccomando grazie e una buona serata a tutti